Cari amici sono Pai, bentornati al nostro programma della gastronomia cinese. Io so che in alcune località del nord Italia, soprattutto nella pianura padana, si mangia l'oca. E oggi invece vi porto ad una città cinese, anche famosa per il consumo di oca. E ritorniamo alla bellissima città di Yangzhou. L'oca che si consuma a Yangzhou è di solito salata, ma soprattutto è molto carnosa. Di solito a Yangzhou l'oca da mangiare viene comprata da una bancarella per strada. Dal taglio alla messa dei condimenti ci vogliono soltanto pochi seguiti. A questo punto viene considerata anche una sorta di fast food. Bancarelle di oca di questo genere sono sfarse in numerose strade della città di Yangzhou. Oltre alle bancarelle, con l'oca si possono fare anche molti piatti molto pregiati. Inoltre, l'oca a Yangzhou viene consumata anche come contorno. Si dice che in questa piccola città ogni giorno si consumano più di 70.000 oca. E quindi per gli amici italiani turisti che sono amanti della carne di oca, Yangzhou è una città immancabile. Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!